Allora, questo è un corso che è finanziato dal ministero. Nelle scuole c'è l'instituto competico di cambio di risorse. Devo dire che è stata una referente che è stata di supporto, soprattutto è stata dall'organizzazione, è stata da sfogo. Mi donavo ogni cosa, io la chiamavo per avere delle solicitazioni, oppure anche soltanto per chi ha iniziato, chi ha iniziato e mi è stata anche domani, se non mi stai in tutto l'altro di questa scuola. Però devo dire che abbiamo avuto dei grossi successi. Devo dire il nostro grazie a questa scuola e mi auguro di successivare, perché ci saranno altri momenti di gioia. Allora, ringrazio e veramente riconvigo ringraziamenti al professor Sitarra. Tutti un ringraziamento e ci vediamo per le prossime attività. Un ringraziamento particolare della signorina Piafale. Grazie mille per questo. Grazie.